L'emergenza sanitaria di questi mesi ha messo alla prova le attività di produzione del cinema, le sue istituzioni, la produzione appunto, la distribuzione, le sale, tutto ciò che ruota intorno a questa realtà. La consulta del cinema, l'associazione che riunisce oltre 300 studiosi e studiosi di cinema e media audiovisivi, che tra l'altro proprio nel 2020 che steggia il suo trentennale, propone una nuova rubrica per discutere in modo aperto, per discutere pubblicamente di questi aspetti e soprattutto anche delle prospettive future, discuterne con gli operatori del settore, direttori di festival, di cineteche, critici, interventi, cinematografici, registi, produttori, sceneggiatori, membri delle film commission, ma anche referenti ministeriali. La rubrica si intitola Making of, Dialoghi con il mondo del cinema e partirà a luglio con i primi tre appuntamenti. Si comincia il 6 luglio con un incontro con Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e con Stefano Francia Bicelle, neodirettore del Torino Film Festival. E si prosegue nei lunedì successivi, il 13 luglio con Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna e codirettore del festival Cinema Ritrovato. E poi chiudiamo il 20 luglio con Steve della Casa, critico cinematografico e conduttore della storica trasmissione radiofonica Hollywood Party. Mi piace ricordare che gli incontri sono aperti a tutti gli interessati gratuitamente e saranno trasmessi sui canali digitali della CUC, in particolare sulla pagina Facebook della consulta universitaria del cinema. Speriamo possa animarsi un dibattito ricco, significativo, interessante intorno ai temi che stanno a cuore non solo agli studiosi, ma anche agli spettatori e agli amanti del cinema di tutte le tappe. Vi aspettiamo allora nello studio virtuale di Making of, sarà un'occasione che ci vedrà collegati da luoghi diversi, magari anche in qualche caso da luoghi vacanzieri, ma insomma speriamo che ci possa far sentire vicini in attesa di ritrovarci di nuovo presto, gomito a gomito, magari di fronte al grande schermo del cinema. Adesso c'è il miagolio dei gatti, si è sentito? Sì, sì, lo teniamo. Sì, 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 sì.